Sulla fusione degli aeroporti di Alghero e Olbi, Alenac ha sospeso il proprio parere, che era inizialmente favorevole per ulteriori approfondimenti dopo un dossier presentato dalla regione. Soddisfatto l'assessore regionale Moro, che in queste settimane si è letto contrario l'operazione ad Alghero. Diversi consiglieri chiedono un consiglio comunale straordinario alla presenza di Regione ed F2I. Questa mattina sovralluogo in cimitero della quinta commissione convocata dal presidente Mulas per fare il punto della situazione in vista soprattutto dei lavori di realizzazione di nuovi loculi. Un saluto a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale, sempre la fusione degli aeroporti di Alghero e Olbi in primo piano. Sono di mercoledì le dure parole dell'assessore dei trasporti Antonio Moro, ma ancora più recente la decisione dell'Enac che ha sospeso il proprio parere, inizialmente favorevole per la nascita di Nord Sardegna Aeroporti. Tenuto a conto di nuovi documenti acquisiti, sospendiamo il giudizio sulla fusione nonostante il precedente via libera al fine di avviare un supplemento di istruttoria. Così l'Enac ha sospeso il proprio parere favorevole alla nascita di Nord Sardegna Aeroporti, presumibilmente dopo un corposo dossier inviato dalla Regione. Regione che proprio tramite l'assessore Antonio Moro in queste settimane ha manifestato la propria contrarietà all'operazione, aprendo con soddisfazione della sospensione da parte di Enac del parere favorevole alla fusione delle società di gestione degli aeroporti di Olbi e Alghero, auspico che gli ulteriori approfondimenti istruttori di competenza dell'ente nazionale e dell'aviazione civile possano fare chiarezza sulle criticità che caratterizzano le operazioni societarie condotte unilateralmente e dal fondo di investimento privato F2I senza alcuna condivisione da parte dell'amministrazione regionale, ha dichiarato ieri l'assessore Moro. Estromettere la partecipazione della Regione Sarda dalla ipotizzata gestione unica degli aeroporti sardi è inaccettabile e dannoso anche alla luce dei concreti e fattivi contributi erogati alle tre società di gestione degli aeroporti da parte della Regione Sarda, che ha nel tempo finanziato investimenti infrastrutturali, contratti pluriennali di pubblicità e per prestazioni di servizi, assicurando a Soge, al Geasar e Sogaer quella quota dei ricavi cosiddetti non-aviation senza la quale non sarebbe stato possibile sottoscrivere gli accordi con le compagnie lo costa, poi ha aggiunto l'assessore dei trasporti, ribadendo quanto già detto in commissione. Quindi Moro ha elencato proprio le somme che la Regione ha erogato per i tre scali tra il 2010 e il 2023, oltre 121 milioni solo a titolo di esempio. Alla Soge e alla Dalghero sono stati corrisposti poco più di 24 milioni, 8 per lavori infrastrutturali, quasi 4 milioni per copertura perdite, 11 milioni e mezzo circa per la promozione del sistema aeroportuale e poco più di un milione per spese varie. Queste dunque le parole, le dichiarazioni dell'assessore regionale e trasporti, ma torna infiammarsi inevitabilmente il dibattito politico, a maggior ragione dopo la decisione di Enac e soprattutto a Dalghero. Quando qualche mese fa presentai un ordine del giorno per chiedere di convocare un consiglio comunale aperto sull'aeroporto e sulla società di gestione Soge alci furono diversi ostacoli e divergenze politiche. Emersero anche dei problemi in aula tra chi non voleva discutere o rimandare il tema, chi voleva rinviare l'ordine del giorno e chi riteneva forse troppo pretestuoso per un umile consigliere comunale, un singolo partito che con le sue rappresentanze in consiglio chiedesse di discutere dell'aeroporto. Passano alcuni mesi ed eccoci qui con la situazione che da preoccupante è divenuta più che drammatica. Questo è uno dei primi commenti ad Alghero sulla decisione dell'Enac e del capogruppo Udc, Christian Mulas, che in una nota ricorda l'episodio avvenuto qualche settimana fa con il consiglio comunale che alla fine andò deserto. Per l'esponente centrista siamo davanti a uno dei momenti più difficili di sempre della maggiore industria del territorio e chi ha nel suo nome quello della nostra società e che soprattutto rappresenta la storia del turismo di Alghero, in particolare del decollo in Sardegna e delle low coste, grazie al lavoro di chi oltre 20 anni fa aveva un sogno, una visione, una passione, tutte cose che paiono scemate negli anni. I risultati di un fallimento sono sotto gli occhi di tutti. Per bloccare la fusione tra Alghero e Olbia è dovuta intervenire l'Enac, denuncia Mulas. Una fusione già data per certa, fallimentare per Alghero, che secondo i calcoli di grandi manager con sede oltre Tirreno sarebbe di fatto divenuta la cenerentola degli aeroporti sardi e questo dopo essere stata l'antesignana del trasporto aereo. Uno schiaffo a un'intera città e alla sua storia, questo stiamo subendo, accusa Mulas. E ciò tutto questo con quasi totale silenzio assordante, rotto solo di recente, da alcune prese di posizione probabilmente pure troppo tardive. Subito una riunione straordinaria urgente del Consiglio Comunale perché anche la massima assemblea cittadina si esprima sul calcoli aeroporti. Questo invece è quello che chiedono i sette consiglieri comunali di centro-sinistra. La presa di posizione della Regione, la sospensione dell'operazione di fusione con l'intervento da parte dell'Enac, la ventilata riconsiderazione del riacquisto delle quote della Sogel da parte della Regione devono far tenere alta la vigilanza del Consiglio Comunale che esprime la voce dei cittadini algeresi. Sottolinea in una nota agli esponenti di Peralghero, futuro comune, PD e sinistra in comune. C'è in gioco non solo una sinergia tra società di gestione e la governance degli aeroporti, ma riteniamo il ruolo, la prospettiva e la sopravvivenza dello scalo algerese, la diversificazione di rotte vettori, lo sviluppo del nostro scalo oltre l'imminente stagione, il superamento delle criticità espresse a vario livello, sono ad affrontare con urgenza e determinazione, prevedendo la presenza in Consiglio Comunale anche dei rappresentanti dell'esecutivo regionale e dei vertici di F2I, concludono dal centro-sinistra. Leggo con soddisfazione, concordandone a pieno le motivazioni, quanto dichiarato dall'assessore dei trasporti Antonio Moro circa la perplessità e la contrarietà sulla fusione dei tre aeroporti sardi, così come al momento ipotizzato. Questo invece è quanto dichiarato dall'ex direttore generale della società di gestione dello scalo di Alghero, Umberto Borlotti. Ho lasciato la direzione aziendale Sogeal nel giugno 2009 apprendo che anche in questi ultimi 13 anni per lavori, coperture perdite, promozione, spese varie sono state corrisposte dalla regione circa 25 milioni. Questo attesta, come anche in presenza di un privato qualificato, la società difficilmente riesca ad autosostenersi economicamente e possa finanziare totalmente lo sviluppo del traffico. Sono convinto, prosegue Borlotti, che come auspicato dall'ENAC nel piano degli aeroporti 2022 si possa creare una rete tra le scali, indipendentemente dalla proprietà, che ottimizzi il rapporto con i vettori, contribuisca a creare centri unificati di acquisto, selezione e informazione del personale, manutenzione dei mezzi aeroportuali, eccetera. Tutto questo all'interno di un atteso piano regionale dei trasporti che veda una regia del governo regionale con il concorso degli enti locali e di privati industriali specializzati. Spero che questo sia il momento in cui si riesca a costruire un modello aeroportuale all'altezza delle grandi sfide sul trasporto aereo e che non veda sterili conflittualità tra gli scali, che abbia come principale obiettivo la crescita economica dei territori serviti e la riduzione dell'isolamento dovuta alla condizione di insularità, conclude Borlotti, ex direttore generale di Sogea. Cambiamo argomento, questa mattina sovralluogo al cimitero della quinta commissione convocata dal presidente Cristian Mulas per fare il punto sulla situazione del Camposanto, soprattutto in vista dei prossimi lavori per la realizzazione di nuovi loculi. Il sopralluogo arriva a distanza di pochi giorni dalla decisione del TAR che ha annullato la gara d'appalto da 400 mila euro per l'assegnazione dei servizi cimiteriali del comune di Alghero dopo il ricorso presentato da una delle ditte partecipanti. Gara da rifare dunque, soprattutto con una commissione diversa dalla precedente. Si guarda però anche ai lavori di ampliamento con la realizzazione di nuovi loculi e alla manutenzione di alcune aree, così come da progetto approvato in una recente delibera comunale. Sì, stamattina abbiamo voluto fare anche un sopralluogo importante perché riteniamo che sia arrivato anche il momento con questo avanzo che troveremo nel bilancio di ripristinare dei fondi per questo Camposanto. I fondi saranno quasi 440 mila euro per 272 loculi, quindi riteniamo che sia importante quello che stiamo facendo. C'è da dire che comunque le vicissitudini di questo ultimo appalto sono state un po' antipatiche, ma in commissione inizieremo a fare dei passaggi, ma soprattutto anche per controllare e vigilare sull'operato di come verrà svolto poi negli ultimi giorni. A un anno dai prossimi appuntamenti elettorali, le regionali prima e poi le amministrative, anche ad Alghero, mette radici azione. Il partito che fa capo ha Carlo Calenda. Il coordinatore cittadino è Gavino Tanchis. Ad annunciarlo è stato il segretario provinciale Francesco Chessa. Gavino Tanchis, dice, è una persona di larga esperienza e grande senso civico. Ha rivestito la carica di assessore di consigliere comunale, si è sempre distinto per la sua competenza e soprattutto vuole bene alla città di Alghero, cosa di questi tempi non del tutto scontata. A breve scadenza, fa sapere sempre il segretario provinciale, verrà convocata una riunione tra gli iscritti per la nomina dei rappresentanti del coordinamento cittadino e di seguito verrà inaugurata la sede politica dove iscritti e simpatizzanti potranno incontrarsi per iniziare a elaborare tutti assieme un nuovo progetto politico. Conclude. E ora ci lasciamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte. Il sindaco Mario Conoci ha incontrato a Porta Terra, portando i saluti della giunta comunale della città, la nuova direttrice della casa di reclusione Giuseppe Tomasiello di Alghero, la dottoressa Giulia Leone, accompagnata dal comandante della polizia penitenziaria Antonello Brancati. È stata l'occasione per approfondire e discutere sui progetti di inclusione sociale dei detenuti che potranno avere la possibilità di partecipare ai lavori di utilità sociale delle comuni di Alghero anche attraverso le società partecipate nel campo del decoro urbano, il verde e le manutenzioni. Infine il sindaco e la direttrice del carcere hanno parlato del tributo che la città insieme alla polizia penitenziaria vuole riservare ai quattro agenti di custodia del carcere di Alghero che nel 1945 persero la vita nel tentativo di evitare l'evasione di sei ergastolani. Si tratta del vice birrigadiere Ettore Scalas, le guardie scelte Paolo Pittalis, Giovanni Banchiddu e la guardia Ugo Cariddi. Nei giorni scorsi invece si è svolta un'attività formativa multidisciplinare con diverse sezioni delle scuole primarie di Alghero volta alla sensibilizzazione dei piccoli studenti sui temi dell'educazione ambientale e della salvaguardia del territorio. L'attività formativa ha visto protagonisti il personale del CEAS Portoconte, facente capo al Parco di Portoconte e area marina protetta dell'Isola Piana, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso la sezione operativa territoriale di Alghero. L'attività di sensibilizzazione è frutto del protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra i due enti per la tutela del territorio e in modo particolare per la restituzione dei reperti marini prelevati nelle spiagge di appartenenza e sequestrati dal personale ADM durante l'attività di controllo viaggiatori in partenza dall'aeroporto di Alghero. Nello specifico una parte dell'attività in questione ha visto protagonisti gli studenti e i rispettivi insegnanti i quali hanno fisicamente riposto nella spiaggia di Mugoni di Alghero la sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati abusivamente da quel luogo e intercettati all'aeroporto di Alghero. Durante la mattinata il personale del CEAS Portoconte oltre a coordinare le operazioni di ricollocamento realizzato come una sorta di gioco ha anche illustrato ai piccoli studenti alcune delle peculiarità del nostro mare sempre al fine non solo della conoscenza ma anche della tutela e preservazione delle bellezze naturalistiche esistenti. Argentini in visita all'Ecomuseo Egea di Fertilia ricevono il premio Innovability e Sport Sostenibile da Nox Oceani che patrocinerà inoltre l'iniziativa Ritorno alla Terra dei Padri dell'Ecomuseo. Nei giorni scorsi l'Ecomuseo Egea di Fertilia ha accolto Gustavo Beretta e Manolo Contini una delegazione argentina proveniente da Rosario. I due sono in Sardegna per partecipare al Bando Europeo e il Turismo delle Radici. Con loro la fondatrice e il presidente di Nox Oceani Francesca De Natale e Luca Giovannini l'associazione sportiva con forti legami in Sud America. A fare gli onori di casa il direttore Mauro Manca che dopo la visita al museo ha raccontato quanto sia importante per gli emigrati tenere in piedi il filo della memoria. La visita è servita per stringere un legame con il Sud America da parte dell'Ecomuseo considerato che molti esuli emigrarono in Argentina ma soprattutto è stata l'occasione per l'importante riconoscimento che la Nox Oceani ad Alghero per ragioni di sport ha voluto assegnare i rappresentanti sudamericani. Luca Giovannini ha quindi premiato Manolo Contini consigliere del Comites Comitato Italiani all'Estero, imprenditore molto impegnato nel sociale mentre Francesca De Natale ha assegnato il prestigioso premio a Gustavo Beretta componente della commission direttiva della New Wealth Old Boys squadre della Primera Division, la nostra Serie A in Argentina e presidente di FederCasa ente che si propone di offrire soluzioni relative all'immigrazione, previdenza sociale ed ogni altro servizio utile a tutti gli italiani residenti all'estero. Nox Oceani che nella sua mission all'inclusione, lo sport e la sostenibilità ambientale patrocinerà l'iniziativa Ritorno alla terra dei padri dell'Ecomuseo Egea in cui una rappresentanza locale a bordo di una barca a vela ripercorrerà a ritroso le tappe di quegli esuli che scapparono dall'Istria e dal Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo il TG con una breve notizia di sport. Giornata positiva per le due squadre del Tennis Club Alghero impegnate nel campionato regionale di Serie C nel girone unico femminile. Le algheresi hanno vinto 4-0 sui campi del 4 modi tennis team ospiti che hanno chiuso i conti già con i singolari vinti da Floriana Monti, Claudia Bardino e Sara D'Alessandro. Monti e D'Alessandro hanno poi completato l'opera vincendo anche il doppio. Con questo risultato il Tennis Club Alghero aggancia le campionesse in carica del decimo manno al secondo posto a un punto dalla capolista Tennis Club Cagliari. Nel girone due maschile importante pareggio per il Tennis Club Alghero 3-3 in casa contro il Tennis Club Novelli che rilancia la squadra nella corsa salvezza. Match equilibrato con il 2-2 dopo i singolari grazie alle vittorie di Nicolo Carta e Fabiano Fois che hanno risposto alle sconfitte di Alessandro Ivaldi e Davide Scano. Equilibrio anche nel doppio con il successo di Carta Fois e il K.O. invece di Scano Ivaldi. E per oggi è davvero tutto. Io come sempre vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.